La lotta alla denatalità Questo è l'annuncio della Presidente Serracchiani che nel caso messo in pratica avrebbe un evidente impatto sulle famiglie del Friuli Venezia Giulia. Si tratterebbe di 7.200 euro per ogni bambino, 8.000 all'anno in nuovi nati in regione. L'iter procedurale sarà avviato prestissimo, ha aggiunto la governatrice, con l'obiettivo di vararlo entro fine mandato. Le condizioni per accedere saranno residenze in regione da almeno 24 mesi e non più di 70.000 euro di Isee. Allo studio anche la possibilità di allungare l'assegno fino addirittura al completamento degli studi. Poi nella nostra idea, in una seconda fase, noi vorremmo che questa iniziativa un po' sul modello francese si estendesse ai figli, almeno per quanto riguarda il periodo della scuola dell'obbligo. Sappiamo che è un impegno importante, sappiamo che è un impegno non solo economico ma anche in termini di riscrittura di quelli che sono i termini del nostro sistema di protezione sociale. Però pensiamo che o prendiamo in mano la situazione, lo facciamo ovviamente auspicabilmente a livello nazionale, ma intanto cominciamo dal nostro territorio, questo non potrà essere un'emergenza vinta e quindi riteniamo di doverlo fare da subito.